Da appassionata di calcio, da tifosa interista, sei dispiaciuta per la probabile partenza di Cassano dai nerazzurri? Io sono interista però non guardo il calcio purtroppo perché sto vivendo tanto all'estero e sono tre anni almeno che non lo guardo però tifo sempre l'Inter, però certo mi dispiace perché comunque è un grandissimo giocatore Penso che con Mazzari l'Inter risalirà? Io lo spero, chiaramente a tifosa interista me lo auguro Però l'Inter è una grande società, è piena di risorse e sono sicura che ci darà grosse sorprese, grosse soddisfazioni in futuro Come fai il Krav Maga? Se rimanete ve lo faccio vedere Il Krav Maga è un combattimento che nasce in Israele nel 1948 ed è tutto oggi utilizzato dalle forze speciali israeliane ma non solo anche in Italia, dalla polizia, dalla CIA e dagli eserciti di diversi paesi Per quanto mi riguarda lo faccio perché mi piace moltissimo ma soprattutto perché se guardiamo il telegiornale oggi o se leggiamo le news ci sono sempre più aggressioni nei confronti di noi donne perciò secondo me non è una cattiva idea, io lo raccomando molto alle donne di tutte le età tra l'altro lo fanno donne di tutte le età, va sicuro, dalle giovanissime a quelle che hanno l'età di mia mamma eccetera eccetera